Ciao ragazzi bentornati sul mio canale, oggi siamo qua tornati nei miei pagelle di Juventus Inter 2 a 0 Ci tengo a dire che in questa settimana sono molto impegnato sia per la scuola perché è una marea di cose da fare E sia per proprio il canale perché ho tantissimi contenuti da caricare essendo che questo è un canale che parla di tutte le squadre Quindi non posso solo trattare della Juventus ma devo anche trattare del calcio in generale Quando sto registrando questo video ho caricato il video mi sembra dei sorteggi e in mattinata chi beccheranno Roma, Fiorentina, Juventus Ho fatto prima i sorteggi finti e poi ho reagito ai sorteggi veri Tra l'altro nei sorteggi finti ho anche beccato la vera avversaria della Juve, il Nantes Detto questo però qui siamo con le pagelle di Juventus Inter Non so se uscirà prima l'analisi della partita oppure le pagelle, in teoria è l'analisi prima Però vabbè mi registra i pagelle che ho preparato ci ho messo un po' però vabbè sono fatti che a voi non interessa Direi che possiamo tranquillamente andare avanti Ok, pagelle di Juventus Inter 2-0, Marcatori, Adrian Rabiot e Niccolò Fagioli Rispettivamente al 52esimo e all'84esimo Minuto di partita Ok Ok, partiamo da Chesney, voto 6 Potevo dare anche mezzo voto in più volendo però Cioè, di Chesney mi sembra che ha fatto una o due parate, una sull'Otuaro Martinez Per il resto l'Inter comunque è vero che ha tirato ma ha tirato fuori quindi Chesney non ha dovuto sporcarsi troppi vuoti Però comunque ha fatto la sua partita, non subisce gol, quarta partita in campionato in cui la Juventus non subisce gol E' una cosa molto molto importante, è la miglior difesa del campionato E quindi se la Juventus è la miglior difesa del campionato Merito va anche al portiere senza alcun dubbio Nonostante Chesney in queste ultime partite non si è sblocato molti guenti Perché il coltore non ha fatto niente Cioè, non gli sono arrivati con il Lecce neanche e neanche con l'Inter praticamente Quindi diciamo che ha fatto, cioè gli posso dare la sufficienza Alessandro 6, allora Non mi è dispiaciuto Un po' meno bravo secondo me rispetto alla partita contro il Lecce, contro il Paris Saint Germain Perché il primo tempo è stato spesso impreciso Nel secondo tempo è decisamente risciuto Voto 6, complessivamente A me dispiace perché quelle volte che giocava bene vorrei dargli un bel voto E anche per realtà, se ci sta Peccato gli avrei voluto dare un po' di più se non fosse stato per quel primo tempo Un po' così così Per un molto bravo Alessandro nella difesa brasiliana 3 Che Bremer, che andremo a analizzare anche dopo il suo voto Ha detto che la Juventus si trova meglio secondo lui con la difesa 3 Per ora sembra di sì Quindi bravo Alessandro comunque fa la sua partita Bremer voto 6 Che partita ha fatto Bremer? Che partita da 7 ragazzi Da 7 pieno Oggi Bremer ha fatto la sua migliore partita Vi posso dire ha coperto tutto Tutto ragazzi Muro Difensivo Mai visto una prestazione così a parte di Bremer Bravissimo veramente Tanta tanta roba Danilo 6 e mezzo Fa un'ottima partita pure lui Veramente ragazzi 6 e mezzo Meritatissimo Quando c'è lui veramente La Juventus Ha una sicurezza in difesa Incredibile Segna il gol del 2-0 Annullato in un modo vergognoso A parte il VAR ragazzi Non c'è niente da dire Non c'è veramente nulla da dire Rete vergognosa Annullata da parte del VAR Nei confronti di La Silva Danilo Un leader Un leader difensivo Nella difesa 3 si trova meglio Su questo non c'è dubbio Però oggi veramente ha fatto Cioè con l'Inter ha veramente fatto Una partitona Ha fermato Forse ha sofferto un po' Nel primo tempo Però poi nel secondo Ha avuto una sicurezza Veramente incredibile Kostic vota 8 Ma che partita ha fatto anche Kostic Senza dubbio La sua migliore partita Gli ho dato 8 Perché ha fatto un primo tempo Da 5-5 e mezzo Un secondo tempo Da 9-9 e mezzo Quindi facendo un po' Diciamo La somma delle due media Alla fine viene più o meno 8 Ma Cioè veramente Kostic in queste ultime partite Ragazzi Sembra un altro giocatore Cioè Nelle prime partite Era partita un po' così Cioè non mi stava Piacendomi un po' E dalla partita col Toro È cambiato qualcosa Sarà stato il ritiro Sarà stato Il passaggio Della difesa 3 Infatti anche con Lecce Guarda a caso Con Lecce Quando la Juve Gioca 4 Kostic fa più fatica Proprio Sopera il cambio di modulo Perché Kostic Veramente Ieri ha fatto una super partita Nel secondo tempo Si è divorato Completamente Dunfris Non l'ha fatto Praticamente Passare Nel setto Nel primo tempo Quindi Con la difesa a 3 Kostic È un giocatore Molto Molto Interessante Voto 8 Meritatissimo Rabiot Voto 7 Allora Rabiot Devo dire la verità Che oggi Cioè Perché dico oggi Cioè Rabiot nel primo tempo Non mi era piaciuto Cioè Non mi stava piacendo Perché era stato Troppo impreciso Troppi passaggi sbagliati Ma nel secondo tempo Cioè Ha fatto un primo tempo Da 5 Ma nel secondo tempo Da 7 e mezzo 8 Perché veramente Ha sulclassato Completamente Barella Ha fatto il gol Che ha aperto Le marcature Terzo gol In Serie A Per Rabiot Forse il quinto In Champions League Quindi Veramente bravo Rabiot Che sta crescendo In maniera Disumana Lucatelli 6 Fa la sua partita Decisamente meno Rispetto alla paria Con il Paris Saint Germain Non mi aspettavo Senz'altro Una partita Paria Quella del Paris Saint Germain Però senza dubbio Ha fatto meglio Anche rispetto Ad altre partite Ad esempio Quella contro Adesso Tipo Senz'altro Ha fatto una ordina migliore Rispetto a quella Col Maccabi Mi viene in mente Una caso Secondo me Con Faccioli Che è più offensivo Questa cosa Può aiutare molto Roccatelli Voto 6 Meritato Ha fatto la sua partita Faccioli 7 Non mi è Diciamo che non mi è piaciuto Come contro il Paris Saint Germain Cioè Devo dire la verità Che con il Paris Secondo me Ha giocato anche meglio Però Rispetto a McKennie Sembrano due giocatori Completamente diversi Faccioli è molto in forma Voto 7 Per il gol Se no gli avrei dato 6-6 e mezzo Probabilmente Però Faccioli È l'ennesima È la seconda partita Che fa Cioè la terza partita Che fa In maniera veramente divina Complimenti a Faccioli Rispetto a McKennie Decisamente meglio Staremo a vedere chiaramente Poi In futuro Cosa accadrà Quadrato Voto 6 Allora Si è visto poco Ieri Quadrato Cioè io non l'ho visto In campo Vi posso dire Primo tempo brutto 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 È vero che nel primo tempo Sare di più rispetto al secondo Ma nel primo tempo Soffre molto di Marco Infatti Fa anche Fare qualche cosa Molto interessante Nel secondo tempo Invece Quadrato lo blocca Lo ferma Infatti poi Inzaghi Lo fa uscire Senz'altro Molto positiva La partita di Quadrato Cioè no Molto positiva La sua partita da 6 Decisamente meglio Rispetto a quella Contro il Lecce Che ha sofferto Decisamente di più Però è un giocatore Che ragazzi Non può giocare sempre Cioè veramente Non ce la fa più Cioè La posa mondiale Può vantaggiarlo Secondo me Quindi Anche perché Quadrato Non ci va ai mondiali Che è una fortuna Secondo me Quindi comunque Voto 6 Comunque bravo Panità Miretti 5 e mezzo A me Miretti Non è piaciuto Troppo impreciso Troppi passaggi Sbagliati Oggi più che per le scelte Ha sbagliato proprio Le cose più banali Troppo offensivo Miretti Troppo offensivo Miretti Miretti deve giocare Molto più dietro Cioè io Paradossalmente Non so che mi possa Sembra Ma io Vedo Molto meglio Miretti Regista Che Miretti Trequartista Sembra una bestemme Anche perché In primavera Mi sembra che ha giocato Trequartista Però Miretti Non so perché Ma anche perché Miretti non è uno Che fa gol Non è uno Che ha un tiro Incredibile Quindi ce lo vedo bene Da mezzano Da regista Fagioli invece Ce lo vedo Decisamente più offensivo Rispetto a Miretti Però ieri Non mi è piaciuto Troppe cose sbagliate Però ci può stare Anche regalato Qualche pallone Mi sembra All'Inter Cinque e mezzo Milik Voto cinque Irriconoscibile Cioè nel senso Non è solo colpa Su Anzi Cioè Perché non gli servono Mai un pallone Anche Milik Ieri E da un po' Di Bardic Sta facendo peggio Del solito Era almeno Tre quattro partite Però comunque Ci può stare Cioè comunque Un calo Che ci sia Cioè almeno io Mi aspettavo Cioè non è che Poteva segnare Come un nannato E poi comunque Diciamo che Con Vlaovic Si trova decisamente Meglio E da questa partita Senz'altro si è visto Però Chiaramente Ho fiducia A Milik Subentrati Chiesa Al settantatresimo Si vi E anche di Maria All'ottantunesimo Ad Allegri Invece Voglio dalle sei e mezzo Secondo me Non ho mai dato Secondo me Un voto così alto Nel pagino Da Massimiliano Allegri Per esempio C'è un motivo Che Veramente Con il Lecce Gli ho dato La sufficienza minima Per aver portato Il risultato Contro il Paese San Germania Gli ho dato Mi sembra sei Perché Non ci poteva fare niente Non è a colpo sua Per quanto riguarda La parola con il Benfica Senz'altro sbagliato Per quanto riguarda La parola con l'Empoli Gli avrei dato sei Quindi oggi E' la prima volta Che doveva Sei e mezzo Ad Allegri Secondo me Questa è stata La sua migliore partita Che ha preparato Perché ha vinto Uno scontri letto Dopo anni Cioè Il suo primo scontri letto Vinto dopo Che è tornato E questo è un'ottima cosa La Juventus Veramente Oggi Cioè Ma perché Continua a dire oggi La Juventus vince Meritatamente Contro l'Inter Veramente Lo fa in una maniera Una bella maniera Rivedendo in realtà Dopo Perché poi dopo Mi sono guardato Durante appunto Sapete quel programma Lì Della Rai Effettivamente Ho visto che Comunque l'Inter L'ha creato Cioè Pensavo Avesse creato Meno così Invece no Però comunque L'ha preparata bene Secondo me I suoi cambi Non ci poteva fare niente Cioè Comunque Non c'aveva nessuna Disposizione Ripeto Che vorrei però Vedere Miretti Più dietro Anche i fagioli Magari anche Più in avanti Per me Fagioli È un trequartista Cioè Io Magari può essere Una bestemmia No Perché Fagioli Ha giocato Molto più Da mezzare Miretti Più in avanti Però Miretti Cioè Se me Non ha il piede Di fagioli Fagioli Su me È più Un finalizzatore Miretti È più Uno che disegna Calcio Che verticalizza Me Su me Io Può sembrare Sano Ma io Miretti Lo vedo Un geometra Mentre un fagioli Un paio di gol A stagione Miretti Non è un grande tiro E ce lo vedo Meglio dietro Può sembrare Una gran cavolata Però Secondo me Non lo è Detto questo Ragazzi Questo video Finisce qui Allegri La parevolata Con in Ciccocci Ma nel migliore Dei modi Possibili Ovviamente Una buona partita Dobbiamo vincere Assolutamente Contro Verona e Lazio Sicuramente Ora che siamo A meno due Dall'Atalanta Che avrà anche La partita con l'Inter Più la partita Infrasettimanale È buono Cioè Ora Se tipo Mi ricordo Che tipo Era un mese fa A meno 6 A meno 7 Adesso Siamo a meno Due Quindi aveva recuperato Tanti punti Anche per Demerito altrui E come ben sappiamo L'Atalanta È una squadra Che cala Dopo un paio Di partite Speriamo Che cali Il mio obiettivo Vorrei essere Comunque Tra le prime Quattro Appunto Prima della pausa Mondiali L'obiettivo Da Juve Non è Lo scudetto Non è Lo scudetto Perché Questo Napoli Ragazzi È troppo Più forza C'è poco Da parlare Però La Juve Secondo me Se gioca così Se gioca così Tutte le partite Con questa grinta Può arrivare Molto Molto Lontano Secondo me Non è stata La miglior partita Stagionale Perché La miglior partita Stagionale In assoluto È stata Quella Contro Bologna In assoluto Da qualche Cioè Secondo me Non sono Opinioni Perché Quella Contro L'Inter Secondo me È stata una partita A due facce Non a due facce Però È stata una partita A sette e mezzo Secondo me Non di più Per esempio C'è un motivo Che Comunque Nel primo tempo La Juve Ha fatto Un primo tempo Da cinque Cinque E mezzo Un secondo tempo Da otto In quel caso Perché È vero Che Veramente Anche L'Inter Secondo tempo Un tiro Però Nel secondo tempo La Juve Si è anche abbassata Minus La Juve Ha fatto Dei progressi Sta facendo I progressi Spero che Contro Verona e Lazio Arrivino altre due vittorie Magari Senza subire gol Cosa però Molto molto difficile Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao